100% cosa fa? 10.000 Come mai? Eh, la vita 100% sono La, 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 la Sonte per mare La, 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 la Vigia forte Canta insieme a noi B&J No! Basta se La, 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 la Fossa per se E noi La, 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 la Vigia forte Alien! La, 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 la Vigia forte Canto in sé Grazie a tutti. 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 Buonasera, 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 buonasera. Mappendo le ciance, facciano entrare subito. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. C'è padre Cesio? C'è padre Cesio? Cari figoli, sono contento di vedermi di servire il signore in questa splendida parrocchia. qui si fa rocchia, qui si fa rocchiani, il cantore, l'organista e tutti quanti. Grazie. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Siamo arrivati a tutti i nostri amici. Se non stiamo chiedendo un confezione Ossola! Baga! Baga! Allora, io ho uno! Non vedete che ho volato girato tutto quanto E qui, non mi sono girato tutto quanto Aruzi! 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 Aruzi!